Dottoressa Cecilia Francese, primo focus socio-economico sulla città di Battipaglia. È importante poi leggere questi numeri per capire poi quali azioni adottare per sviluppare il nostro territorio. No, dice bene, trovo che questa iniziativa della Fondazione sia una grandissima iniziativa, ma conferma la presenza di questa cassa rurale sul nostro territorio. La città di Battipaglia sa benissimo che ha almeno tre filoni da poter seguire, quello industriale. Dopo ci sta l'altro filone che è il filone dell'agricoltura. Dopo c'è l'altro filone che è il filone turistico. Noi abbiamo le due grosse zone, le fasce costiere, la Malfitana e la Cilentana, che sono straordinarie da un punto di vista di bellezza, ma queste due zone non hanno lo spazio che noi abbiamo. Quindi bisogna avere le idee molto chiare. Si parte dalla rivoluzione delle acque e della fascia, ma soprattutto da individuare, da ridisegnare questa zona. È chiaro che tutto questo si può fare partendo da una conoscenza del territorio e dalla cooperazione tra istituto bancario, tra forze sociali e tra imprenditori. Il Comune deve essere pronto ad accogliere queste istanze e a lavorare insieme.